Vorremmo dimenticarci del Covid, ma il Covid non si è certo dimenticato di noi. Così il virus corre veloce sulle colline della Valdera e colpisce il piccolo comune di Terricciola, dove con i vecchi criteri sarebbe zona rossa. I numeri che abbiamo oggi sono molto più alti del limite della zona rossa. Per un piccolo comune come noi sarebbero 11,25 casi a settimana, a ieri ne avevamo 640, quindi un indice molto alto rispetto a quello che c'è intorno a noi. Insomma numeri che preoccupano soprattutto in una realtà così piccola e in cui il contagio si può trasmettere veramente molto in fretta. Per questo l'amministrazione comunale è subito corsa ai ripari. Abbiamo deciso insieme alla ASD di provvedere alla chiusura dei due plessi scolastici in cui c'erano all'interno dei casi di positività ai ragazzi. Un comune di poco più di 4.000 abitanti, più di 40 contagiati ad oggi, focolai, familiari, che qui nelle terre del vino fanno scattare l'allarme e il contagio si propaga anche alle frazioni vicine. In questo momento stiamo valutando anche la chiusura della didattica in presenza di tre classi a selvatelle in cui non c'è nessun caso, però ci potrebbero essere stati dei contatti con un soggetto risultato positivo. Una situazione che non si era verificata nemmeno nella prima ondata di un anno fa, che qui era passata senza colpire duro. Adesso che la via è quella delle riaperture, invece la raccomandazione è proprio quella di non abbassare la guardia. I numeri sono comunque preoccupanti, quindi la cittadinanza deve stare molto attenta, deve cercarsi di isolarsi il più possibile, evitare i contatti, evitare le zone affollate, evitare le zone al chiuso, in modo da poter contenere quanto prima questo indice così importante. Valutiamo con l'ASD passo dopo passo le eventuali iniziative e aspettiamo i prossimi giorni per capire come si sviluppa. Grazie a tutti.